Si vedeva spesso l'onorevole? Sì, 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 a parte il buongiorno, buonasera, non ho mai scambiato le parole Da quanto tempo più o meno che lo vedete qui? Un paio d'anni, in caso è molto bella, credo sia molto bella, una bella vista, per carità Gli affitti in questa zona sono molto alti? Sì, sono alti, minimo, minimo, 1.500, 1.200